Ciao bambini! Eccomi, sono di nuovo la maestra Michela Dei Rosa. Vi ricordate che abbiamo letto insieme il libretto di Barba Papà e ce l'avemmo dati appuntamento per costruire dei Barba Papà con le patate? Allora, eccomi qua per provare insieme a voi. Ora spostiamo un po' il libretto. Vi faccio vedere quelle che ho già fatto e poi ne facciamone insieme. Ecco, questo è Barba Papà e questa è Barba Mamma. Mi piacciono? A me sembrano simpatici. Allora, proviamo a fare insieme un altro Barba Papà. Prendiamo il foglio rosa e incarchiamo questa patata. dietro ci mettiamo lo scotch. Attenzione, un pezzetto, un altro pezzetto e poi un altro anche qui. ecco, vediamo un po' se va bene. Benissimo. Ora cosa manca a questo bel Barba Papà? Mancano gli occhi. Perciò con il bianco ed un pennello sottile, il più sottile che avete, ecco qua, facciamo due begli occhietti. Uno così e due. Ecco, ora prendiamo il nero e con il pennello, un altro pennello sottile, facciamo il naso e la bocca sorvidente, bella grande. Ecco. E poi ancora all'interno degli occhietti, ecco qua, un bel puntino nero, ci assomiglia a Barba Papà. Ora cosa facciamo? Cosa manca? Mancano le braccia con le manine. Attenzione, piano piano, sempre col pennello sottile. Facciamo un braccio con una manina da una parte e poi un braccio con un'altra manina dall'altra parte. Ecco, ecco qua. Questo è un altro Barba Papà. Dai, è facile e veloce. Ok? Voglio proprio vedere i vostri lavori che saranno sicuramente anche più belli dei miei. Con un foglio di carta nera potete fare Barba Mamma, con un foglio di carta rosa potete fare Barba Papà e se avete delle patatine più piccole potete fare anche tutti i bambini di Barba Mamma e Barba Papà. Allora, buon lavoro e buon divertimento. Ciao ciao!